Potranno rimanere nella RSA Don Tonino Bello di Cursi i 24 anziani ospiti non deambulanti e non autosufficienti che rischiavano il trasferimento in altre sedi. L'ha deciso il Consiglio di Stato che ha accolto l'appello proposto dall'Avvocato Alberto Pepe, legale rappresentante protempore della cooperativa sociale Casa Centro Anziani di Accoglienza e Solidarietà, che gestisce la struttura residenziale per anziani della quale il Comune di Cursi, la Regione Puglia e l'AS di Lecce avevano disposto la chiusura con revoca dell'autorizzazione sanitaria. Il provvedimento era stato adottato perché la cooperativa avrebbe allestito un posto letto in più rispetto ai 24 autorizzati all'interno del locale adibito a palestra, così da realizzare un ampliamento e trasformazione che avrebbero reso necessaria una preventiva autorizzazione al funzionamento. La società Casa ha impugnato l'atto dinanzi al Tar di Lecce e ne ha chiesto la sospensione e l'annullamento. Le tre amministrazioni si sono costituite in giudizio resistendo all'impugnativa, ma la sentenza della Corte di Stato ha dato ragione alla società cooperativa sociale Casa, disponendo che la RSA di Cursi continui ad operare.